Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. La statale 330 è chiusa in località Albiano Magra, nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. In FIPL per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del turbone, sono possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina, in entrambe le direzioni. Sempre in FIPL tratto chiuso per lavori tra Livorno Porto ed Interporto Toscano Ovest, in direzione Firenze. In conseguenza dell'emergenza sanitaria coronavirus, raccomandiamo a tutte le persone di limitare, ovve possibile, gli spostamenti ai casi strettamente necessari, secondo le indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio. Ed è tutto, buon viaggio!